BELLA A TUTTI NONNI PANZONI Per vedere guardate, guardate, un creeper è salito sul vagone, mi ha fottuto il vagone, ma che cacchio, brutto creeper schifoso, oddio, esplode, no, ma che cacchio, ma che cacchio, vabbè, e poi boh, i creeper ti fregano i vagoni, Io ti muovo, ok, l'ho ucciso, va bene, da Darkfeather è tutto, spero che questo piccolo video vi sia piaciuto, ciao a tutti